ciao a tutti ragazzi oggi stiamo andando al mare anzi oggi andremo al mare e andremo con la famiglia di atelier ci sta aspettando lì vicino alla rotonda sotto passaggio e niente questa è la prima volta dopo un anno che andiamo al mare questa è la prima volta dell'estate e niente questo è il costume che ho comprato da Shane poi lo vedrete meglio e staremo lì fino a più o meno più o meno a mezzogiorno e quindi niente ora stiamo partendo a siamo già arrivati al bagno degli americani sono con Atelier ciao ragazzi siamo già al mare stiamo a fare una passeggiata io e te li ecco qui ciao ci siamo già attuffate in acqua e ora stiamo facendo un po' di merenda e ci stiamo riposando ora c'è un bel po' di gente ecco questi sono i miei eccoli siamo appena tornati a casa dal mare anche se volevo starci un po' di più e niente ora ora pranzeremo e poi farò schiaccerò un altro pisolino e poi andremo al green park lì a ginestra insomma è un parco ecco con tutti i nostri parenti sono già ginestra e questa è tutta la mia la nostra famiglia san seduce ciao Ettore ciao Ettore ciao Ettore ciao Ettore ciao 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 Tic-tac pa more! Guardate chi c'è! Ciao bebe! Come sei bella! Ciao! Sono quasi le 10 e queste hanno ancora fami. E c'è Eiji che sta tagliando la carne. Bambini non fatele a casa! Indovinate chi è venuto a dormire a casa nostra? Azelea! E stiamo mangiando, stiamo facendo lo spuntino di mezzanotte. Anche se non è mezzanotte. Però ci stiamo mangiando e stiamo guardando tutte le volte che ti ho scritto ti amo il 2. Stiamo dipingendo il salotto, non sarà più a strisce rosse e bianche, ma sarà tutto bianco, guardate! Finalmente! C'è Babbo che sta pitturando? Sta passando il rollino, ecco! Sta passando il rollino, ecco! Siamo passando il rosse e bianche, ma sarà più a stricte. Ma sarà più a stricte. Perché è l'e, bianche, è un'acqua, è un'acqua. Si è un'acqua, è un'acqua. Si è un'acqua, è un'acqua. C'è un'acqua, è un'acqua! No E' per agosto, sabato, e niente siamo di nuovo al mare, sono qui con Atlea e altri nostri amici, e si stanno mettendo la fiamma solare, e niente grazie a Dio è una bellissima giornata e ne ho voluto fare il bagno. No 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 Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Abbiamo preso i babbulti al mango Ciao, siamo di nuovo al mare, questa sarà la terza volta E sono qui con i miei cugini e i miei parenti Fa abbastanza freddo rispetto al solito Sì, Chisha, puoi, puoi Vai, vai Siediti Chi c'è qui, amore? Adesso è da farlo da questa parte Amore, ciao! Amorina Sono a casa di Adeleia, andremo a casa sua E ora stiamo guardando Eno AC in live Oggi è l'ultimo giorno È arrivato il pacco, ragazzi! Questi sono tutti i prodotti che mi hanno ordinato le clienti E erano, credo, i prodotti dell'album 10 E niente, ci sono tantissimi bagno doccia Ora vi faccio vedere Allora, c'è il bagno doccia, l'argane e rosa Poi due A mandorle e fiori d'arancio Poi una alla lavandina e mora Poi uno al lampone e menta pipirita Poi uno al mango e coriandolo Una ai fiori di terre e ilang ilang Poi l'ultimo è alla pesca e all'anice stellata E poi abbiamo un'acqua profumata al cocco E poi tre cremine Una all'argane e rosa Poi una al mango e coriandolo E poi una al cocco E abbiamo un burro cacao al lampone E poi il nuovo album 12 E poi, vabbè, una busta E la fattura con il bollettino Questa è tutto per oggi Spero che il mio video vi sia piaciuto E prima di chiudere il video I just wanna do a quickly shout out And I just wanna say hi To my cousins To Jamela Marruques And Nicole Marruques Hi And thank you for watching E niente, ora vi saluto guys Ci si vede nel mio prossimo video Ciao 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 Ciao